Ciao a tutti e benvenuti sul canale AC News. Con questo video vi porto le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara, che andranno in onda dal 6 all'11 marzo. Prima di iniziare, se vi va, lasciate like e iscrivetevi al canale, per non perdere le prossime anticipazioni. Ringrazio di cuore chi lo farà, perché per me è un gesto importante. Partiamo! Yilmaz condivide un momento emozionante con Zuleya e il figlio. Demir scopre che Zuleya è scappata di nuovo. Unkar minaccia Fecheli e Bej inizia a capire cosa sta succedendo al matrimonio della nipote. La puntata di lunedì inizia con Yilmaz e la sua famiglia che parlano delle pratiche burocratiche che devono svolgere dopo la morte del suocero. Bej decide di trasferirsi con la famiglia una volta che ha conosciuto Yilmaz. Bej si ricrede sul loro conto. Intanto Yilmaz continua ad essere tormentato dal pensiero di Zuleya. con la quale vorrebbe terminare la loro conversazione. Demir è ancora in carcere e chiede a sua madre di non far vivere Zuleya come se fosse una prigioniera. In quel frangente arriva Bej Adana, Fecheli la accoglie calorosamente. Assisteremo allo strano interesse di Bej per Fecheli. Nel penitenziario Zuleya è insieme al piccolo Adnan. Andranno a visitare Demir. Mentre aspetta il suo turno per vedere il marito, il procuratore vede Zuleya con suo figlio nella sala d'attesa e organizza la visita nel suo ufficio. In modo che la coppia possa parlare con più calma, perché vede che Adnan è molto agitato. Il pubblico ministero si metterà nei panni del bambino. E per questo si offre di occuparsi del piccolo e lascia soli Demir e Zuleya in modo che possano parlare. Demir dice a Zuleya che lei non merita di frequentare la prigione e che da ora in poi sarà tutto diverso ed aggiunge che non vivrà mai più come prigioniera. Zuleya e Demir si accarezzano. In villa Adnan sta giocando sul letto con dei giocattoli. Quando uno scorpione entra nella stanza e sta per pungere il bambino. Fortunatamente Zuleya riesce a salvare suo figlio dal pericoloso insetto. Tuttavia sia lei che la sua suocera decideranno di trasferirsi nella capanna per alcuni giorni. Mentre Garfour e il resto degli operai disinfettano la villa. Nel frattempo Giulide si reca in ospedale per raccogliere i risultati di alcuni esami. E incontra il dottor Sabattin che conferma che lei non ha nulla di cui preoccuparsi. In centro Adana, Gulten incontra Yilmaz. Quando quest'ultimo gli chiede cosa ci fa lì, la ragazza gli dice che Zuleya e suo figlio con un car si sono trasferiti nella capanna. Yilmaz nota gli sguardi tra l'amica e Setin. Per questo propone al dipendente di accompagnare Gulten a casa. Ma lei rifiuta la sua proposta, preferisce proseguire da sola. Nel frattempo il detective arriva alla capanna per dire a Unkar che ha trovato finalmente Sermin. Entrambe partono per cercarla mentre Zuleya rimane da sola con la nonnina e Adnan. La madre di Unkar rimasta sola con Zuleya inizia a sentirsi male. Zuleya decide di far salire la signora sul furgone per portarla in ospedale. Mentre loro escono di casa, Yilmaz arriva davanti alla capanna per parlare con Zuleya. Tuttavia proprio mentre sta per bussare alla sua porta, inizia a pensare a Mujgan e si ferma. Durante il tragitto per l'ospedale, Zuleya inizia a sentire un certo malessere, quindi ferma l'auto per bere dell'acqua. Quando torna nel furgone la madre di Unkar è scomparsa. In macchina c'è solo Adnan. Yilmaz, che per puro caso sta passando di lì con la sua auto, si ferma per soccorrerla. Zuleya perde conoscenza. Lui vede che sta sanguinando, la prende in braccio e la porta via con la sua auto. Sulla strada per l'ospedale la ragazza si sveglia e vede Yilmaz, ma Adnan non è con loro. Zuleya gli chiede dov'è suo figlio. Yilmaz con la faccia perplessa non sa cosa dirgli, non l'ha visto. Zuleya gli dice che era nel furgone. Il giovane si gira per cercare il bambino. Quando arrivano sul posto per prendere il ragazzino, in lontananza loro vedono Adnan seduto in mezzo alla strada e un grosso camion gli è molto vicino. Yilmaz non esita a correre, riesce a prendere in braccio il bambino e per un secondo lo salva da un terribile incidente, mentre Zuleya grida. Per il miracolo l'ha salvato. Subito dopo Yilmaz la porta in ospedale. Nel frattempo Unkar trova Sermin e cerca di convincere sua nipote a cambiare la sua dichiarazione. Quello che Unkar non si aspetta è che la nipote le chieda una grossa somma di denaro. Unkar con faccia arrabbiata rientra a casa e non trova sua nuora e il nipote, e teme che sia scappata di nuovo. Subito va da Fecheli e gli dice di essere certa che Zuleya sia scappata con Yilmaz, ma lui non gli crede. La signora molto arrabbiata dice di trovarlo, poi aggiunge che se non tornano racconterà tutto a Mujgan. Badge assiste alla scena e inizia a capire ciò che sta succedendo. In ospedale Sabatin entra nella stanza per controllare Zuleya che è arrivata in pessime condizioni. Il dottore farà il possibile per aiutarla. Quando Zuleya si risveglia chiederà di Adnan. Sabatin le dice che il piccolo è con Yilmaz nella sala d'attesa. Zuleya racconta al medico che vuole rivelare a Yilmaz che lui è il padre del bambino, ma ha paura della sua reazione. Le voci sulla fuga di Yilmaz e Zuleya arriva sulla bocca di tutti. Infatti Garfur non esiterà a raccontarlo a Apit. Infatti più tardi in carcere Demir riceve una visita inaspettata di Atip, con l'intento di far crollare psicologicamente Demir. A quel punto Demir gli chiede il motivo della sua visita. Atip non esita a lanciare la prima frecciatina. Vedo che almeno qui in prigione le cose funzionano bene per te. Demir non capisce di cosa stia parlando e gli chiede cosa vuole dire ma Atip si fa implorare. Poi continua. Vedo che tua madre sta nascondendo la verità, ma io non la invidio. Come potrebbe dirti una cosa del genere? Demir inizia a perdere la pazienza ma decide di lasciare la stanza. E proprio mentre sta per andarsene lancia la notizia che cambierà tutto. Il bastardo di Yilmaz ha portato via tua moglie e tuo figlio. Ecco cosa è successo. Poi aggiunge. Devo congratularmi con Yilmaz. Aveva detto che avrebbe preso tutto ciò che ti apparteneva. E lo ha fatto davvero. Ha preso tua moglie e tuo figlio. Demir a quel punto è molto arrabbiato. Per questo le guardie lo obbligano di uscire da lì. Demir sarà devastato. Penserà che Zuleya lo abbia abbandonato. Soffrirà molto nella stanza di isolamento. Più tardi Fekeli chiama Mujgan per chiedere di Yilmaz. La dottoressa gli dice che Zuleya è lì e che Yilmaz è stato colui che l'ha portata in ospedale. Ali inizia a pensare che Unkar avesse ragione e che la coppia stesse davvero progettando di scappare insieme. Ore dopo Unkar accusa Zuleya di voler scappare con Yilmaz, ma lei nega tutto. Ma Unkar non le crede. Il giorno successivo, in una chiacchierata con Gulten, l'impiegata chiede all'amica se ha rivelato a Yilmaz che Adnan è suo figlio. Quella stessa notte Zuleya avrà un orribile incubo. Sognerà che lei, Yilmaz e il piccolo, sono pronti a scappare, ma che Demir arriva e uccide il suo amato. Anche se si tratta solo di un sogno Zuleya si sveglia impaurita. E la sua paura continuerà per i giorni successivi. Ecco terminate le anticipazioni. Come continuerà la storia? Voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Vi ricordo, se vi va, di lasciare like e iscrivervi al canale, per non perdere le prossime anticipazioni. Ci terrai tantissimo, e ringrazio molto chi lo farà. Ci vediamo al prossimo video. E ciao!